In questa ottava domenica del tempo ordinario ascoltiamo l'ultima parte del discorso di Gesù che il Vangelo di Luca racconta nel capitolo sesto e il racconto proprio prosegue rispetto alle parole che abbiamo ascoltato nelle ultime due domeniche con una parabola, un breve detto può forse un cieco guidare un altro cieco e Gesù usa queste parole per introdurre uno dei detti anche più famosi del Vangelo, di quelli che sono rimasti in qualche modo anche proverbiali, l'invito a non togliere la pagliuzza che è nell'occhio del fratello prima di togliere la trave che è nel proprio occhio, questa frase la conosciamo bene, riconosciamo la stessa logica che abbiamo visto anche nelle domeniche precedenti, quindi uno sguardo verso i fratelli che non sia uno sguardo di giudizio, che non sia uno sguardo di condanna ma che possa essere uno sguardo di misericordia e qui Gesù aggiunge anche questa considerazione che anzitutto è anche di buon senso ma poi anche motivata teologicamente appunto del fatto che se il nostro sguardo, se il nostro occhio è viziato dal male, dall'invidia, comunque da quello che lui chiama appunto la trave che è presente nell'occhio non è possibile senza prima purificare il nostro sguardo poter guardare in maniera positiva e in maniera giusta, cioè secondo lo sguardo di Dio i nostri fratelli e le nostre sorelle e quindi l'accusa di ipocrita che Gesù fa risuonare qui nel Vangelo certamente è giustificata in questo contesto e la seconda parte del Vangelo che ascolteremo invece è un po' più riassuntiva perché qui Gesù dice che dall'albero, l'albero si riconosce dai frutti, dai frutti si riconoscerà l'albero è interessante questa metafora che Gesù utilizza, ovviamente è molto facile di capire come tutte le parabole, come tutte le immagini che Gesù ha usato ma in qualche modo appunto riassume tutto il messaggio che Gesù ha dato, qui Gesù stava parlando, l'abbiamo ascoltato due domeniche fa ai suoi discepoli, stava parlando anzitutto a loro e quindi queste parole sono rivolte a chi anche oggi vuole essere il discepolo del Signore e l'invito è proprio questo, ecco il discepolo non è uno che parla di più degli altri, che annuncia chissà che cosa agli altri ma è una persona che nella sua stessa vita, cioè vivendo semplicemente la sua fede annuncia e testimonia il Vangelo, dal frutto, cioè dalla vita, dalla vita stessa del discepolo si può riconoscere l'origine di quel frutto, quindi l'albero, quindi la fede in Gesù. È interessante l'immagine del frutto, è anche l'immagine che usa per esempio Giovanni parlando della vite, lo stesso legame che c'è fra Gesù che è il tralcio e Gesù che è l'albero e il discepolo che è il tralcio e qui se la usa Gesù, quindi noi discepoli del Signore siamo radicati in lui, siamo radicati nella sua amore, nella sua misericordia e se viviamo questo amore e questa misericordia nella misura stessa in cui noi viviamo saremo testimoni, saremo missionari, chi vedrà i frutti potrà riconoscere l'albero e questo è l'invito con cui si conclude questa pagina del Vangelo e con cui si conclude anche questo tempo ordinario prima che appunto inizi domenica prossima il tempo della Quaresima.